Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno di Nimitz, in tempo di guerra aveva conosciuto un soldato. Finito la guerra si sono sposati, lui è venuto a Firenze, venuto a Firenze. Poi, sono sorridente che ero qui a Nimitz e scriveva ogni Natale, ogni Pasqua, che altro non è venuto qui e non ha risponduto, mai proprio te. Allora, la via aveva avuto un filo, passato il tempo alle morti, e qui a Nimitz è capitata una telefonata da qui, qui è qui di Firenze, da qui alla stazione di Udin. A partire la Brut di Rine, qui, con il tassista di Nimitz, Brana, che è di classe, a proposito, ecco, di Fiorentina. Allora, va in stazione di Udin, la Bruna non la conosceva perché non era mai stata qui. Invece Brana, il tassista, ha detto, oh, era lì che veniva io dal tempo, e io che là, sai tu. Ostriga, che se mai fare là, ha detto la Brut. Sono la secchiore che l'hanno chiariato in macchina, ma già per strada il chiaffo alleve c'è là. Poi bene, arrivato a casa, quando smontava le macchine, sussurrì nella veduta e gli ha detto, sussurr, al vigno per tutti, no mo? E magari così no, ha detto che altre. Buon, ho sai contato di questo, perché se per casa voi altri, se vai a Firenze o di altri bandi, non stai mai a dismentare il vostro Paese e la vostra Int. Buona giornata e buona vita. Ciao.